un cordiale saluto da federico grasso e ben ritrovati con il meteo di arpal anche questo oggi sulla liguria cielo sereno poco nuvoloso in particolare sul centro ponente dove potremo avere il passaggio di dubbi medio alte ci sarà una residua regolare nuvolosità levante in progressivo diradamento con il passare delle ore i venti sono deboli variabili o in regime di brezza localmente moderati da sud ovest sulla costa dell'imperiesa al pomeriggio il mare mosso sul centro ponente localmente molto mosso per onda da sud ovest sull'estremo levante in graduale scaduta durante la giornata temperature stazionarie con valori massimi compresi tra 17 e 22 gradi domani venerdì 30 ottobre il cielo si manterrà poco e regolarmente nuvoloso potremo avere addensamenti di nubi basse più consistenti sul savonese in temporaneo direttamente nelle ore centrali nel corso della giornata assisteremo al transito di regolari velature più estese al mattino venti deboli variabili o in regime di brezza locali rinforzi da sud est sul savonese nel pomeriggio mare in calo a poco mosso già dal primo mattino sul centro ponente da giorno da metà giornata anche levante minima indieve calo con valori costieri racchiusi tra 10 e 13 gradi nell'entroterra tra 5 e 8 massime stazionarie con valori tra 18 e 21 gradi sabato 31 al mese di ottobre si chiude con una giornata dove il cielo sarà fino a regolarmente nuvoloso sul centro ponente per addensamenti marittimo costieri nei bassi strati a levante invece il cielo sarà prevalentemente nuvoloso potremo assistere a passaggi di sottili velature nel pomeriggio i venti calmi o deboli a prevalente regime di brezza con tendenza a disporsi ancora da sud est sul savonese nella serata il mare poco mosso quasi calmo temperature minime stazionarie con valori in costa tra 9 e 12 gradi nell'entroterra tra 4 e 10 massime in lieve calo con valori racchiusi tra i 17 e i 20 gradi ricordandovi che in dettaglio sul meteo liguria consultabile sul sito www.arpal.liguria.it sulla pagina facebook sugli altri social dell'agenzia vi auguro una buona giornata a risentirci a presto